Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, video in cui parliamo tanto per cambiare di shopping ho fatto qualche acquistino in questi giorni e prima di mettervi a scatole e scatolette varie ho pensato insomma di mostrarveli e come sempre appunto di condividere con voi questi acquisti non sono tantissimi, pochissima roba, però insomma avevo voglia di girare, di stare un po' con voi e adesso ve le faccio vedere, avrete capito che sono nel mio periodo acquisti profumi e acque per il corpo mi piacciono ma poi ci sono dei periodi in cui proprio a manetta non faccio altro che acquistarne poi tante di voi mi danno tanti consigli e quindi insomma sono sempre incentivata a comprarne di nuovi e poi ho fatto degli acquisti make up ma esclusivamente acquisti di rossetti che sono la mia altra grande passione allora partiamo subito, vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere prima i profumi altrimenti con i rossetti mi sporco le mani e devo continuare a girare il video con le mani sporche scusate se sono parecchio scollata ma dopo qualche giorno di fresco qua è tornato un caldo bestiale e quindi sto sempre con i capelli legati e super super scollata e con questa sciarpina qui che mi manda calore, ciao amore di mamma aspetta arriva anche lui che è un gelosone pazzesco, si amore mio si, fate i bravi eh allora partiamo subito con i profumi, guardate come si è messa allora prima di tutto vi faccio vedere un profumo che mi è stato consigliato da una mia iscritta della quale vado a leggere il nick perché è anche piuttosto lungo la ragazza si chiama Irene Magic Life 78 quindi ciao Irene, ti mando un bacino se mi stai seguendo la quale mi ha consigliato di provare e di annusare un'acqua profumata per il corpo della linea Nutri di Acolina e in particolare questa che vi faccio vedere l'acqua profumo addolcente con estratti naturali di latte di riso e fiori di ciliegio in questa confezione meravigliosa, in questo colore appunto dei fiori di ciliegio che è veramente carinissima costava 11,80 euro e con la tessera ho avuto uno sconticino insomma l'ho pagata 10 euro questa si presenta vedete così, in questa confezioncina molto molto carina e sono se non sbaglio 150 ml, confezione in plastica quindi molto molto pratica da tenere in borsa, da portare in palestra molto molto carina e con un profumo veramente delizioso diciamo che la cosa che prevale è proprio l'odore più che sento una sorta di, più che odore di fiore di ciliegio sento proprio un odore di amarena quasi bello molto più corposo e la devo ringraziare perché mi piace moltissimo è una body mist in realtà lei, se non sbaglio, se non ricordo male mi scriveva sul commento che nel commento che la usa anche sui capelli però io vedo qui che il prodotto contiene dell'alcol quindi mi raccomando non sui capelli perché i capelli insomma si rovinano con i prodotti che contengono alcol e questa la devo però ancora provare quindi non vi so dire la persistenza però la profumazione è buonissima veramente molto fresca molto adatta per questo periodo e per nulla banale quindi grazie veramente Elena per avermela consigliata perché mi piace moltissimo un altro acquisto che ho fatto è coinvolta dal super sconto perché questo prodotto costava 19,80 euro invece l'ho comprato il sconto a 10,40 euro in profumeria è un profumo di Alissa Ashley e si chiama Coco Vanilla intanto vedete la confezione che è carinissima veramente molto carina gialla con questa stampa prettamente estiva si chiama appunto Essence of Paradise ed è un odio parfum è proprio un profumo 100 ml è il formato e questo è il profumo vedete? enorme 10 euro insomma ho fatto un affare secondo me soprattutto perché la profumazione è paradisiaca veramente allora Cocco Vanilla lo dice il nome stesso del profumo è un profumo con cocco e vaniglia che esordisce in un modo un po' agrumato con delle note di bergamotto di arancia il cocco sotto forma appunto di latte di cocco lo troviamo nelle note di cuore e le note di fondo sono molto più calde più dolciastre date dal muschio dall'ambra e dalla vaniglia io l'ho provato in profumeria perché appunto è attratta dal prezzo e poi perché in passato ho acquistato il muschio di Alisa Ashley scusate sono un po' ho messo la camera un po' troppo bassa quindi mi taglia la testa vabbè e ho in passato utilizzato il muschio ed è uno dei muschi più buoni veramente che abbia mai utilizzato e quindi l'ho voluto provare l'ho sentito un po' per tutto il giorno e dopodiché ho deciso di fare l'acquisto perché è un profumo buonissimo tra l'altro quando l'ho provato Manu mi ha detto sa proprio di abbronzante veramente buonissimo sa di mare sa proprio di esotico quindi è una fragranza veramente paradisiaca che sa di spiaggia, di polinesia veramente buonissimo se vi capita non mi ricordo come si chiama la profumeria in questione si chiama Beauty Star ma i profumi di Alisa Ashley li trovate anche da Sephora se magari lo trovate in offerta o vi va ad andare un'annusata è veramente un profumo buonissimo per questa stagione tra l'altro anche molto persistente perché io l'ho provato diciamo qui sul polso e l'ho sentito veramente per tutta la giornata terzo acquisto profumoso che ho fatto l'ho fatto da Wicon perché siamo stati sempre a Portogruaro in questo centro commerciale dove hanno aperto da poco Wicon e mentre Manu stava dal barbiere si chiama proprio il barbiere il negozio a farsi modellare e sistemare la barba io sono stata un po' in giro e ho acquistato sono delle nuove acque profumate di Wicon oltre a quelle diciamo che sono sempre state in gamma permanente con i nomi delle isole olie e ho preso quest'acqua qui che si chiama White Mandarin questa è un'acqua rinfrescante al mandarino in questa confezione deliziosa con questo color appunto arancio mandarino ed è veramente carinissima e tra l'altro questa era in offerta a metà prezzo mi pare l'ho pagata 4,90 euro anche di questa posso dirvi che ha una buona persistenza perché ovviamente l'ho testata l'ho provata lì e ho visto che per diverse ore ho sentito la profumazione è un profumo in cui non avverto altre note se non proprio quella sa proprio di mandarino è veramente buonissimo voi sapete insomma mi avete sentito parlare di un profumo di acquolina al mandarino che mi piace molto che mi rievoca dei ricordi veramente molto belli legati alla mia infanzia e adolescenza e quindi ho voluto acquistare amore mio ho voluto acquistare anche questa e insomma mi piace moltissimo è un'acqua rinfrescante profumata dalle note frizzanti e intense ideale per rinfrescare lenire la pelle anche questa contiene alcol per cui assolutamente vietata sui capelli almeno per quanto mi riguarda mentre stiamo in argomento walcon ho acquistato un rossetto se non sbaglio fa parte della collezione androgeni non sono certa se dovessi essermi sbagliata vi faccio passare in sovraimpressione magari il nome della collezione il nome esatto e ho preso uno dei sei mi pare rossetti legati a questa collezione il Dreamland Lipstick in questa confezione veramente molto bella e molto elegante vi dico subito che questo è un rossetto cremoso super pigmentato ed emolliente con burro di mango selvatico e adesso ve lo faccio vedere non è un rossetto matte ma è un rossetto cremoso dal finish brillante e ha questo packaging che secondo me è di una bellezza incredibile davvero molto molto elegante e questo l'ho pagato a prezzo pieno perché non era in saldo l'ho pagato 6,90 euro comunque i rossetti di Wicom sono di ottima qualità hanno sempre un prezzo eccezionale e questo è il numero 3 e si chiama Naked Pursuit scusate se io tentendo nel leggere ma non vedo niente tra l'altro devo anche cambiare le lenti degli occhiali che ho perché non mi bastano più non vedo proprio niente da vicino devo sempre allontanare e questo è il colore è un meraviglioso color nocciola veramente molto molto bello davvero super elegante tra l'altro in questo caso il consiglio della commessa è stato veramente importante illuminante perché io avevo scelto un'altra colorazione questo non l'avevo proprio considerato invece lei mi ha detto ma perché non provi questo sulla tua pelle ambrata secondo me è perfetto e adesso vi faccio uno swatch di questa meraviglia è un rossetto splendido veramente splendido io non l'ho ancora provato diciamo sulle labbra però dalla stesura l'ho sentito veramente molto cremoso molto morbido e nutro sempre delle grandi aspettative riguardo i rossetti di Wicon perché sono dei rossetti che non mi hanno mai delusa per quanto riguarda le performance quindi vi farò sapere anche riguardo a questo poi sono stata da OVS perché stavamo cercando delle cosine per Manu e sono stata attratta da questo rossetto che mi era sfuggito stranamente dei classici long lasting di Essence pagato 2,49 euro se non ricordo male questo è il packaging insomma questi rossetti li conoscete tutti e questo è nella colorazione 26 che adesso vi vado a svocciare non è un colore prettamente estivo perché è un rosa malva anche un po' grigio ma diciamo nella prospettiva insomma nell'arrivo dell'autunno o dell'inverno l'ho acquistato perché è veramente bellissimo e questo è il colore è veramente splendido non lo avevo acquistato io ne ho tanti di questi rossetti di Essence ma questo mi era proprio sfuggito scusate ragazzi se oggi vi sembro un po' così ma ho veramente un fortissimo mal di testa sarà dovuto al tempo non lo so adesso vi faccio vedere lo swatch di questo rossetto meraviglioso è veramente bellissimo tra l'altro conto di utilizzarlo con una matita di Kiko sui toni del malva in contrasto deve essere l'effetto deve essere bellissimo questi rossetti insomma sono molto famosi pur essendo così cremosi così brillanti comunque poi risultano molto confortevoli e soprattutto durano veramente tantissimo se abbinati o un primer o piuttosto che una matita labbra poi da Kiko sono entrata così senza l'intento di acquistare niente sono stata tratta da un rossettino veramente molto carino anche questo come colorazione non proprio in tendenza estiva fa parte della collezione dei creamy lipstick un rossettino in offerta pagato 2,45 euro e ho preso la colorazione aiuto ecco l'ho rotto la colorazione 01 packaging molto carino che assomiglia molto ai rossetti di Nabla e sì il concetto diciamo è quello questo è un po' più lunghetto e vi faccio vedere la meraviglia di questo rossetto mi sembra tantissimo la versione lipstick del famosissimo limited stilo numero 13 che ormai non fanno più e questo è il rossetto spero che riusciate a cogliere le sfumature di questo rossetto malva top grigio è veramente splendido davvero davvero molto bello vi faccio qui uno swatch è meraviglioso un colore stupendo perché è un misto tra un malva tra un color top tra l'altro è molto molto cremoso molto scorrevole sicuramente un rossettino che va necessariamente abbinato ad una matita perché sento che ha questa texture troppo troppo morbida e temo che senza l'aiuto di una matita vada un attimino a sbordare ovviamente non l'ho provato non vi so dire sulla tenuta vi sto facendo per il momento solo vedere gli acquisti che ho fatto ma più lo guardo è il colore veramente splendido poi finalmente è ritornato nei punti vendita a bottega verde almeno qui da me era sold out ovunque come lo era anche sul sito il rossetto liquido tenuto estrema quelli arricchiti con olio di rosa bianca e vitamina E nella colorazione super famosa rosa velluto anche questo l'ho preso scontato del 50% quindi l'ho pagato sui 7,50 euro rossetto splendido colorazione meravigliosa vedete si presenta così ed ha una colorazione splendida che adesso vi faccio vedere che dicono assomigliare al numero 13 del lip stain di Sephora ma io lo vedo molto diverso perché il numero 13 di Sephora è molto più rosato tendente al malva questo ha una punta di arancio allora questo è il rossetto liquido in questione è una colorazione veramente bellissima e super pigmentata già la prima passata questi rossetti sono splendidi perché non seccano assolutamente le labbra nel senso sono dei rossetti liquidi lunga tenuta che tendono ad asciugarsi quindi è ovvio che seccano le labbra però quando le andate a togliere almeno a me non mi lascia le pellicine come fanno tanti altri rossetti per cui è assolutamente promosso si asciuga subito il colore è bello pieno e poi questo colore diciamo rosa un po' vintage lo trovo veramente molto molto elegante unica cosa il prezzo cioè se non lo trovate in offerta secondo me non dovete acquistarlo ultimo rossetto che vi faccio vedere è un rossetto della nuova collezione di Nabla Freedom Nation che ho ricevuto dopo circa una settimana dall'ordine ma loro gentilmente mi avevano specificato che avrei dovuto aspettare questo non importa perché in questo senso sono stati molto corretti pagato 12,90 euro adesso mi sfugge un attimo allora questo è il packaging che è molto molto carino molto molto curato devo dire anche vedete qui sotto richiama un po' quello che è il tema di questa collezione mi è arrivato in un pacchettino che ha all'interno tutto lucido con i fiorellini e malgrado fosse un solo prodotto è stato confezionato con il plurible con la velina chiuso con il sigillo l'adesivo insomma con il simbolo della collezione con il tema della collezione quindi un pacchetto veramente curato nei minimi particolari il colore che io ho preso è Bohème diciamo che sono rimasta un po' delusa da questa colorazione perché in realtà il colore del rossetto differisce veramente veramente tanto dagli swatch che io ho visto dagli swatch ufficiali infatti lo avevo acquistato proprio attratta da quella colorazione devo dire che una volta ricevuto il rossetto il rossetto si discosta veramente non poco da quegli swatch però devo dire che comunque mi piace allora il rossetto è quello che ho su in questo momento che su di me più che essere un rosa malva è più un grigio è un malva grigio comunque vi faccio vedere il packaging diciamo il classico packaging di Nabla che ha cambiato però la colorazione che ha questa colorazione viola lilla un po' olografico molto molto carina e questo è il colore del rossetto che vi ripeto mi ha un po' sorpresa ecco nel senso che l'ho trovato molto molto diverso in realtà pensavo di aver acquistato un altro rossetto vi faccio uno swatch anzi fatemi sapere se lo avete acquistato anche voi avete avuto questa questa sensazione e questo è il colore del rossetto che ribadisco comunque mi piace moltissimo è davvero molto bello come colore secondo me è stata cambiata anche un po' la texture perché rispetto ai precedenti di Vacrime lo sento anche lo swatch sulla mano e comunque l'ho applicato sulle labbra lo sento un po' più asciutto mentre quelli erano molto più cremosi scusate che metto la batteria alla videocamera perché mi sta abbandonando allora eccomi qui scusate sono ritornata e vi stavo dicendo lo trovo un pochino più asciutto però lo indosso da stamattina lo trovo comunque molto confortevole non sento l'effetto di secchezza sulle labbra insomma un po' come non avere niente sulle labbra è molto molto confortevole mi sta piacendo moltissimo dunque ragazze questi erano tutti i miei acquistini spero di avervi tenuto un po' di compagnia fatemi sapere insomma se avete acquistato anche voi qualche rossettino di nabla e come vi state trovando vi mando come sempre tanti baci se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao